Ciao a tutti! Prima di immergerci nella notizia di oggi, ti invito a iscriverti al canale e a cliccare sulla campanellina per attivare le notifiche, così sarai sempre aggiornato sulle ultime notizie. E se apprezzi questo video, non dimenticare di lasciare un like. Iniziamo con una notizia sconcertante che ha colpito il mondo dello spettacolo italiano. Jerry Scotti, il noto e amato presentatore, sta affrontando uno dei momenti più duri della sua vita. Pochi giorni fa, un'ombra ha oscurato la sua esistenza. Sua moglie, mentre attraversava una strada in un tranquillo quartiere residenziale, è stata tragicamente investita da un veicolo in corsa. Il drammatico incidente ha provocato gravi ferite alla signora Scotti, costringendo un immediato intervento medico. Senza perdere tempo, è stata portata d'urgenza in ospedale, dove un team di medici ha dato il massimo per stabilizzarla e tentare di salvarle la vita. Incapace di nascondere il suo dolore e preoccupazione, Jerry Scotti ha raggiunto l'ospedale in fretta, stando al fianco della sua amata moglie per tutta la notte. L'immagine di un Jerry, visibilmente sconvolto, ci ricorda quanto questi eventi possano improvvisamente cambiare le vite. La solidarietà non si è fatta attendere. Gli amici e colleghi di Jerry sono accorsi in ospedale, dimostrando il loro incondizionato supporto. Ma non solo loro. L'intera nazione si è stretta attorno al popolare presentatore, in attesa di aggiornamenti sullo stato di salute della signora Scotti. Questa tragica notizia ha sollevato un'ondata di empatia e calore, con moltissimi italiani che hanno condiviso messaggi di incoraggiamento e preghiere sui social media. Jerry Scotti è uno dei volti più noti della televisione italiana. Ha una lunga carriera come presentatore di vari programmi, quiz e talent show. È apprezzato dal pubblico per il suo carisma, la sua professionalità e il suo senso dell'umorismo. Per quanto riguarda la sua vita personale, Jerry Scotti è sempre stato molto riservato. Tuttavia, sappiamo che è stato sposato e ha un figlio, Edoardo. La sua famiglia ha sempre rappresentato un punto fermo nella sua vita, e spesso ha dichiarato in varie interviste l'importanza del legame familiare. Purtroppo, come per molte celebrità, la vita privata viene spesso messa sotto i riflettori, ma Jerry ha sempre cercato di proteggere i suoi cari dall'attenzione eccessiva dei media, preferendo mantenere una certa discrezione riguardo ai dettagli personali. In generale, la coppia ha sempre mostrato un'immagine di stabilità e complicità, sostenendosi a vicenda nelle varie fasi della vita e della carriera di Jerry. La famiglia, per Scotti, è sempre stata una priorità e un rifugio dai ritmi frenetici del mondo dello spettacolo. Prima di concludere vi chiedo, cosa ne pensate di questa notizia? Lasciate un commento e un pensiero di conforto qui sotto, e fateci sapere le vostre impressioni. Il sostegno e la solidarietà sono fondamentali in momenti come questi. Grazie per essere stati con noi oggi, e come sempre, vi invitiamo a restare connessi per ulteriori aggiornamenti. A presto!